La Renato Curiangolana batte il capistrello e conquista tre punti che danno continuità al pari inaugurale con l'Avezzano, padrone di casa in controllo, rovetani penalizzati dall'inferiorità numerica dopo meno di 20 minuti per il rosso assegnato a Fantozzi. Gara arbitrata da Franchi di Teramo. Pronti via e la Renato Curiangolana è già in vantaggio. Punizione velenosa di Di Giovanni sulla respinta imperfetta di Fanti. Si butta Casati che col piattone sblocca la contesa. 1-0 e secondo centro per l'eclettico giocatore di Mister Deugenio. Il capistrello non molla la presa e si rende subito insidioso con De Roccis che sguscia via ma non trova nessuno all'interno dell'area. Al ventesimo capistrello in 10. Ruggeri e Fantozzi vanno a contrasto. Il direttore di gara estrae. Il secondo giallo per il terzino che ha anche la peggio ed esce in barella. Alza i giri la Renato Curiangolana. Conclusione da fuori area di Farias. Strepitoso riflesso di Fanti che devia in angolo e il preludio al raddoppio. Puntuale corsa sulla sinistra di Di Loreto. Casati di testa un cecchino e punisce di nuovo Fanti. 2-0 segna sempre Giacomo Casati. Una favola da raccontare questa ripresa per l'esterno angolano. Sotto di due gol e di nuovo il capistrello non molla mai. Il lancio di 50 metri per Cirelli che da attaccante di razza riapre la gara con rara freddezza e precisione. La formazione di De Eugenio continua a macinare sulla sinistra. Miani taglia ben in verticale ma si divora il tris calciando alto. Con le immagini di Mario Giacchetta andiamo alla ripresa che ha sicuramente meno da offrire. Al quinto minuto il neo entrato Buffetti. Arpiona di testa un pallone. Blocca a terra Fanti. Poco nulla da segnalare. Il capistrello sfiora il pareggio con la punizione velenosa di De Meis. Salva Di Giovanni. L'azione prosegue e Rozzi di testa. Manca l'appuntamento col pallone dopo un cross sulla sinistra. Quattro minuti di recupero e triplice fischio. L'angolana vince. E da un bel segnale all'altre sei squadre il capistrello soccombe ma a testa alta. Mister, una vittoria magari non bellissima ma comunque una vittoria sporca. Una vittoria che dà sempre tre punti a quest'angolana. Sì, ripeto, come ho detto al suo collega, di buono oggi ci sono i punti che non ci sono stati domeniche che forse meritavamo ad Avezzano, però nella prestazione c'è stato forse un passo indietro complessivo. Quindi dobbiamo analizzare il perché, chiaramente lavorare. Abbiamo la fortuna di avere una settimana di sosta, abbiamo la fortuna che due ragazzi oggi era il secondo allenamento che facevano in uno giocato titolare, quindi non neanche ci conoscevamo. Quindi dobbiamo sfruttare questo periodo per migliorare le cose di buono che abbiamo fatto fino adesso. Ripeto, nel secondo tempo, nel fine del primo tempo non è stata una buona partita da parte nostra, secondo me. Due parole da spendere per Giacomo Casati, veramente un giocatore importantissimo per voi. Due partite, tre gol e tanta, tanta classe per quest'angolana. Sì, guarda, io sono molto felice in special modo quando fanno bene i ragazzi del settore nostro, cioè i ragazzi nostri, parlo di Puddu, Ruggeri, Casati, quelli che c'è, mi fa veramente molto piacere. Quindi lui tre gol due partite, lo sto sperimentando anche in un ruolo magari non suo, nel senso un po' adattato. Quindi, che dire, sono contento per lui e speriamo che continui così. Quattro punti in due partite, l'angolana c'è? È anche un messaggio per le altre squadre? C'è, a patto che si svegli un attimino. Ripeto, non sono del tutto contento della partita di oggi. Mister Giordani, partiamo da quell'episodio del rosso. Sotto di un uomo, poi prendete anche il 2-0 eppure non mollate. 2-1, nel secondo tempo molta più attenzione, avete anche rischiato di pareggiarlo. Un capistrello che non ha mollato, è uscito a testa altissima. Ma, bravo, perfetto, hai fatto un'analisi perfetta. Rosso, naturalmente, dubbio perché quando prendi due gialli in dieci minuti, con falli leggeri, chiamiamoli così, è normale che poi pesa. Prima partita dopo cinque mesi. Giocare in undici contro dieci è stato devastante. Però abbiamo veramente messo tutto e non abbiamo sofferto quasi nulla dopo il 2-0. Anzi, abbiamo sofferto solo quei dieci minuti e poi la partita è stata naturalmente condizionata. aveva quell'episodio, però noi, l'ho detto prima a qualche collega tuo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. I punti interessano relativamente. Abbiamo fatto il tipo di partita che dovevamo fare. Abbiamo fatto giocare i nostri giovani 2003, 2002 e 2001. Hanno fatto benissimo. Meritavano qualche cosa in più a livello di risultato. Però accettiamo e andiamo avanti. Un minicampionato con tante squadre blasonate, qual è il principale obiettivo del Capistrello? L'ho detto adesso, noi abbiamo partecipato per far giocare i nostri ragazzi giovani. Naturalmente oggi tanti, ne mancavano altre tanti. Non andiamo a badare alla classifica, naturalmente se la giocheranno altre squadre più blasonate, come hai detto tu. Noi abbiamo partecipato esclusivamente per quello. Il nostro obiettivo per oggi è funzionato benissimo.